Ciao a tutti sono Bellof del canale Bellof Film & Service bentornati in questo nuovo video oggi mercoledì per parlare di Andor prima di cominciare però come sempre ricordo di mettere like al video con il pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice click sul tastino iscritti che trovate qua sotto nell'interfaccia di youtube allora siamo arrivati all'episodio numero 8 si intitola Narkina 5 Narkina 5 altro puntatone di Andor lo stile è sempre quello il tono è sempre quello quindi insomma sapete che mi sta piacendo parecchio purtroppo l'ho già detto in altri video a tanti per tanti non è così c'è chi lo trova troppo lento c'è chi lo trova troppo noioso per conto mio mi sembra quasi impossibile trovare noioso questo Andor soprattutto se si è fan di Star Wars se si è appassionato del mondo di Guerre Stellari perché vengono analizzate vengono soprattutto spiegate sviluppate e anche approfondite tante cose in questa Andor soprattutto sull'impero cose che non avevamo mai visto continuano ad aggiungersi personaggi su personaggi perché anche qua arriva So Guerrera che già lo sapevamo però insomma personaggio nuovo ci sono nuovi pianeti ci sono nuove location tipo questo Narkina dove va Andor dove si trova imprigionato Andor quindi insomma è vero magari non è non va a spromba tutto non è una serie che ha un ritmo esagerato quello no però insomma per conto mio scritta benissimo mi sembra sta non può non piacere e poi cioè dobbiamo anche capire che non dico che sia un esperimento fatto dalla Disney però o dalla Lucasfilm però è stato dato tutto in mano a Geer Roy lo stesso di Rogue One quindi questa è la versione di Star Wars di Geer Roy che è completamente diversa da quella di Lucas è completamente diversa da quello dei film sequel completamente diversa da The Clone Wars da tutte le serie animate da quello dalla visione che può avere per dire filoni è completamente diversa dalla visione che può avere Favreau con The Mandalorian Bukov Bafetto B-Wan insomma e cioè la versione e lo Star Wars di Geer Roy per conto mio sarà che sono un po' più grandicello sarà che le altre alla fine sono un po' adolescenziali ma non perché sia un minus ma perché il tono che gli da Ger Roy è più maturo è superiore insomma più bello da vedere ovviamente è un parere personale cosa vediamo qua in questa puntata in questi 50 minuti tante cose come al solito ho fatto la mia listina ma le sono segnate allora un'altra cosa che volevo dire io negli scorsi video ho sempre detto dopo i primi due archi narrativi c'era la puntata 7 poi i due archi sarebbero separati invece non è così avevo letto tutto ciò su un articolo però probabilmente l'articolo non era abbastanza affidabile perché perché questa puntata 8 non c'è l'inizio di un nuovo arco ma non è altro che il susseguirsi della fine della puntata scorsa quindi abbiamo ben cinque storyline in questa puntata e la prima è quella di andor imprigionato anarchina 5 questo pianeta prigione imperiale che somiglia tantissimo ai campi di concentramento della seconda guerra mondiale e sapete che lucas per le divise per la struttura dell'impero appunto si è ispirato ai tedeschi di quel periodo quindi toni ghiroi fa lo stesso con le prigioni qua quando arriva andor che novellino conosce fondamentalmente due persone vediamo due personaggi importanti il supervisore chino interpretato da andy serkis lui bravissimo cazzutissimo dovrebbe essere prossimo alla libertà almeno così ci dice gli mancano pochi giorni c'è il contatore dei turni o di giorni che mancano però chissà se il suo personaggio avrà un seguito all'interno della stagione oppure della serie se lo vedremo anche nel nella seconda stagione chi lo sa e poi ci sta un altro personaggio che si chiama ruscott melci che avevamo già visto su roguan qua lo vediamo molto più gracilino e ci sta mentre su roguan lo vediamo insomma un po più pasciuto normale ovviamente non essendo in prigione ovviamente non dovendo stare la a lavorare a creare questi blocchi di metallo assemblati di metallo che serviranno per cosa boh per la morte nera forse sì forse no comunque la cosa importante secondo me il quello a cui serve queste queste scene queste scene su un'archina fai per cosa sono sono rappresentano di nuovo la stretta dell'impero infatti viene nominato anche aldani almeno il colpo che è stato fatto su aldani non si capisce se vogliono incolpare andor oppure no però secondo me non avrebbe tanto senso perché che ne sanno loro dalla prigione di quello o di chi è stato c'è stato ad aldani comunque il senso è sempre quello per andoro lui si ritrova dove scontare sei anni sei anni per non aver fatto niente quello che ha fatto su aldani alla fine cioè è di nuovo la beffa perché gli si ritorce contro e se non ci fosse stato il colpo su aldani non ci sarebbe stata la stretta così forte dell'impero quindi lui non sarebbe stato imprigionato insomma si accorge che nonostante sia pieno di crediti non può essere libero da nessuna parte non può avere la libertà che spera e quindi finirà dove finirà probabilmente ad incontrarsi con luten finirà a diventare quello che già sappiamo uno dei cardini o uno degli elementi principali per la ribellione questo per quanto riguarda narkina 5 e andor poi passiamo alla seconda storyline che è quella sull'impero dove vediamo due personaggi il tenente ed è dramiro e cyril carne praticamente qua ci mostrano che sono molto simili cioè sono hanno tutti e due le le bandine perché sono votati all'impero sono votati alla giustizia però non stanno antipace alla giustizia per quello che per come la intendono loro però non gli si può dare torto loro dal loro punto di vista ci hanno anche ragione cioè si trovano i ribelli i rivoluzionari che gli stanno rovinando la struttura imperiale loro sono votati 100 per cento all'impero e quindi eseguono il loro lavoro fanno il loro mestiere carne è ossessionato da andor infatti vediamo che fa delle richieste agnoti richieste strane perché venga incriminato così lanciate un po nel vuoto che vengono raccolte dal tenente d'edra perché perché adesso gli è stato affidato anche il caso di ferix e vuole scoprire insomma come lavora la ribellione quella che dovrebbe essere la prima cellula della ribellione infatti si presenta da carne gli fa leggere il rapporto che lui non ha mai letto insomma perché vuole capire informazioni in più come detto sono molto simili anche se per ora allora d'edra sembra non avere bisogno di carne mentre carne si cioè vorrebbe fare la sua parte probabilmente andando avanti con la storia siccome d'edra ci dice che ha individuato questo secondo personaggio che poi sarebbe luten che qua lei chiama nome in codice axis e capisce che l'unico modo per avere accesso ad axis e scoprire chi è e seguire la pista di andor si riallaccerà di nuovo con sir il caro almeno andrà a chiedere qualche informazione più visto che lui è stato su ferix anche se nella sua missione fallimentare poi appunto c'è la storyline di ferix la terza che ho messo dove vediamo bix e la sua telefonata la chiamerei io perché perché lei prima va dalla mamma di andor però la mamma di andor non vuole sentire ragioni vuole rimanere dove sta mentre lei vorrebbe mettersi in contatto con luten per scoprire che fine ha fatto andor però la telefonata mettiamola così non va a buon fine va a finire male il giorno dopo si ritrova dagli imperiali si ritrova il tenente d'edra pronta per questo interrogatorio che probabilmente andrà un po' oltre come vediamo nel finale poi ci sta la quarta storyline che è quella di mon motma quella più breve forse siamo di fronte a un altro festino un altro galà fra nobili imperiali e mon motma ha sempre i soliti problemi cioè ha problemi politici ha problemi familiari che noi riusciamo a capire il col marito come va o come non va capiamo solo che anche il marito probabilmente all'inizio era un rivoluzionario oppure era non lo so qualcuno che si faceva valere mentre oggi il marito lo vediamo proprio bello c'è sempre proprio spapparanzato lui l'impero gli va benissimo gli sta da dio se ne sta là in mezzo al lusso e poi c'è tai colma l'amico di mon motma che dovrebbe aiutarlo per il terzo problema cioè quello dei soldi dei crediti che gli servono per portare avanti il suo progetto il progetto della ribellione quindi mon motma insomma più o meno naviga in quelle acque la sta sempre la e poi arriviamo alla quinta invece storyline della puntata che è quella di luten è quella di cleia è quella di so guerrera allora quella di lute si riallaccia alla telefonata di bixx perché perché vediamo che lui vorrebbe sapere cosa voleva dire bix cosa stava cercando bix però la sua aiutante sembra addirittura peggio di luten perché gli dice tu luten stai perdendo colpi noi non possiamo rispondere perché se rispondiamo va a finire che compromettiamo tutto e gli dice stai perdendo colpi nel senso che come se si stia affezionando i suoi contatti e quindi cleia gli dice non va bene che tu ti affezioni ai contatti chiudiamo tutto luten risentito gli dice io non sto perdendo colpi chiudiamo tutto e alla fine aveva ragione l'aiutante di luten perché l'impero infatti è andato poi su ferix e aveva beccato la trasmissione quindi insomma qual è la storia di luten e di cleia ce la faranno vedere chi lo sa perché io devo dire sono abbastanza curioso anche il personaggio di crea che abbiamo visto nella scorsa puntata quando vediamo per coruksan col cappuccio che dal trailer sembrava quasi una cattiva e infatti insomma è parecchio risoluta e parecchio votata alla causa e poi vediamo luten spostarsi da coruksan e andare su segramailo segramailo a trovare chi ovviamente so guerrera vediamo un so guerrera che non è finito non è non ha tutti quegli aggeggi come in roguan quindi qua è cinque anni prima di roguan quindi nel mentre chissà cosa è successo probabilmente gli eroi ce lo farà vedere cosa capiamo dal bellissimo dialogo fra luten e so guerrera quello che già sapevamo fondamentalmente che ci sono tanti tipi di ribellione ci sono tante cellule che quella di so guerrera probabilmente è una delle più estremiste però è estremista anche verso non solo verso l'impero ma verso anche le altre cellule cioè a lui interessa la sua di cellula interessa la sua divisione di ribellione rivolta contro l'impero e non vuole avere a che fare con gli altri non vuole avere a che fare che non so con i separatisti con i filo repubblicani con qualche senatore che magari non è d'accordo con quello che sta succedendo all'impero quindi immagino che dimon motma non sappia nulla che l'uten non gli abbia detto nulla mentre l'uten ragiona più c'è come se avesse un disegno più ampio ed è per quello forse che nella scena prima quella con cleia gli già stai perdendo colpi forse l'uten pian pianino si sta rompendo le balle di agire da solo di lavorare solo almeno vuole vedere crescere il suo sogno e soprattutto vuole farla pagare all'impero perché continua a ripetere solo grazie all'impero con la stretta dell'impero noi possiamo trovare altre persone e con quelle altre persone se ci mettiamo assieme possiamo vincere mentre se stanno tutti separati so che era il suo gruppetto luten c'è il suo gruppetto e cleia c'è le sue idee mon motma lavora al senato sì ma anche no con i suoi problemi alla fine non ottengono niente è quello insomma l'idea principale che probabilmente a luten staremo a vedere e poi si arriva al finale che è quello che dicevo prima in cui c'è il tenente devra che ha beccato bix e quindi lei vuole sapere dov'è andor perché ha capito che se trova andor troverà anche axis cioè luten e finisce la puntata bello come ho detto prima cioè vale tutto il discorso il cappello introduttivo che ho fatto ed ora allora mi mancano quattro puntate non ci sono gli archi narrativi misti quindi si andrà passo passo la storia abbastanza lineare forse ci sarà una puntata di flashback che ci fanno vedere il passato di luten lo spero e poi cosa mi aspetto mi aspetto alla fine di questa stagione di vedere qualcosa di più concreto cioè ci fanno vedere tutta la costruzione costruzione ci fanno vedere tutta l'evoluzione delle cellule ribelli ci fanno vedere tutta la storyline di andor però si arriverà a una reunion se arriverà ad un'unione a una consapevolezza da parte di tutti questi personaggi che assieme ce la possono fare e poi vedremo anche bail organa probabilmente sì e poi c'è anche qualcun altro di nascosto che sta lavorando per la ribellione di molto molto famoso probabilmente sì lo butto la butto il nome asoka tano perché se avete visto taylor the jedi che è appena uscita su disney plus oggi dove ci sono questi sei corti velocissimi sulle storie racconti sugli jedi di star wars alla fine dell'ultimo quello appunto su asoka tano che abbiamo capiamo che asoka e organa insomma se la intendono già da tempi remoti cioè da quando dalla fine di episodio 3 praticamente o poco più in là e organa ha lasciato un cerca persone ad asoka e gli dice chiaramente che se ne avrai bisogno io ci sono quindi insomma nel finale di stagione mi aspetto qualcosa di tangibile qualcosa di concreto di spettacolare anche di emozionante che concluda la dodicesima puntata per poi lanciare la seconda stagione che dovrebbe essere l'ultima almeno vabbè che nell'articolo sempre di prima che avevo letto su gli archi narrativi quelli intrecciati diceva che il roi voleva fare addirittura cinque stagioni però probabilmente ripeto l'articolo non è così affidabile perché diceva lui ne aveva proposte cinque alla disney però poi la ha detto no insomma stringi gli roi ne facciamo due infatti dovrebbero essere due detto questo ho detto tutto spero che questa mia chiacchierata sulla puntata 8 di andor vi sia piaciuta e come al solito vi saluto vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da beluf e al prossimo video